Ben ritrovati in questo nuovo video dove parleremo ancora di biochimica e continueremo il discorso sul metabolismo glucidico concentrandoci sulla via del pentoso fosfato. Che cos'è il ciclo dei pentoso fosfati o via del pentoso fosfato? È una via metabolica ubiquitaria, cioè è presente in tutte le cellule del nostro corpo ed è localizzata a livello del citoplasma. Perché però è importante la via del pentoso fosfato? Ci sono due motivi principali che la rendono fondamentale questa via. Innanzitutto permette la sintesi di ribonuclotidi grazie alla formazione di quello che viene chiamato ribosio 5 fosfato. In secondo luogo è sorgente di nadfosfato ridotto che deriva dalla vitamina B3 ed è importante per tutte quelle vie biosintetiche riduttive presenti nel fegato, nel tessuto adiposo, nel muscolo, nelle ghiandole mammarie, nella corteccia surrenalica e anche nelle gonadi. Inoltre questa via è importante per la formazione di molecole che conosciamo molto bene, come per esempio il colesterolo o gli acidi grassi. È importante però non confondere quelle che sono il nadfosfato ridotto e il nadridotto che invece cede gli equivalenti riducenti alla catena di trasporto degli elettroni che avevamo anticipato brevemente proprio sul video del metabolismo glucidico. La via del pentoso fosfato è importante per i prodotti che ne derivano ed è divisa in due fasi principali. Una prima fase viene chiamata fase ossidativa, la seconda fase è chiamata fase non ossidativa. Vediamo però quali sono le fasi un pochino più nel dettaglio. Nella prima fase ossidativa ci ritroviamo quattro reazioni principali. Nella prima reazione il glucosio 6 fosfato si trasforma in 6 fosfo glucono delta lattone ed è proprio in questa prima reazione che il nadfosfato si riduce. Il 6 fosfo glucono delta lattone nella seconda reazione si trasforma in 6 fosfo gluconato e sarà poi nella terza reazione che si avrà di nuovo una riduzione del nadfosfato in nadfosfato ridotto, trasformando il 6 fosfo gluconato in ribulosio 5 fosfato. Infine è con la quarta reazione che questo ultimo composto si trasformerà in ribosio 5 fosfato. Abbiamo però una seconda fase, definita fase non ossidativa. Nella fase non ossidativa abbiamo che il ribosio 5 fosfato che deriva dalla precedente fase si unirà con lo xiluloseo 5 fosfato generando due nuove molecole, il 6 eptuloseo 7 fosfato e della gliceraldeide 3 fosfato. Alla fine di queste reazioni che non spieghiamo così tanto nel dettaglio avremo come prodotti finali due molecole di fruttoseo 6 fosfato e della gliceraldeide 3 fosfato. Queste reazioni che si possono studiare autonomamente dobbiamo ricordarle semplicemente per la loro utilità, cioè tutti questi intermedi garantiscono il corretto metabolismo cellulare. Sono particolarmente utili questi prodotti infine perché rientrano in altri processi come per esempio la glicolisi o la neoglucogenesi. A cosa ci serve però conoscere questi cicli metabolici? Cioè in soldoni cosa ce ne facciamo di conoscere un po' di biochimica? Intanto comprendiamo qual è l'importanza dei carboidrati all'interno del nostro sistema biologico. In particolare abbiamo per esempio gli eritrociti, cioè i globuli rossi, che funzionano solo grazie a processi glicolitici, i cui starter sono prodotti anche per mezzo proprio del ciclo dei pentoso fosfati. Inoltre abbiamo il nadfosfato ridotto che è un prodotto fondamentale per mantenere quelli che sono i nostri sistemi antiossidanti ridotti, come per esempio il glutatione, che è uno dei principali sistemi antiossidanti del nostro corpo, insieme al superossido dismutase o alla catalase. In altre parole la biochimica ci permette di conoscere come siamo fatti e soprattutto come funzioniamo. In modo particolare coloro che saranno professionisti delle scienze motorie, conoscere un po' di biochimica permetterà loro di comprendere anche qual è l'importanza dei metabolismi energetici e soprattutto quali sono anche le fasi più delicate dell'allenamento al cambiamento per esempio dell'intensità del lavoro. Quindi quando l'intensità si alza, come il nostro metabolismo glucidico può subentrare in maniera molto più importante per sopperire a quelle che sono le richieste energetiche poi delle cellule. Dall'altra parte per esempio un biologo o un nutrizionista utilizza queste nozioni per cercare di non cadere poi vittima di alcuni falsi miti o alcune credenze popolari e metropolitane che sempre di più circolano nel mondo per esempio di internet. quello che deve servire a tutti noi è semplicemente come un punto di partenza da cui riuscire a comprendere come funzioniamo e soprattutto a dare qualche spunto utile per tutti coloro anche che ci seguono. Anche oggi quindi il video finisce qui, invitiamo sempre a tutti coloro che ci seguono con regolarità ad approfondire queste tematiche attraverso appositi libri di testo universitari, in quanto la brevità di questi video non può esaurire nella loro complessità le tematiche trattate. Noi vi ringraziamo per essere arrivati fino a qui, se non avete messo ancora un like vi chiediamo di mettere un like al video e qualora voleste iscrivervi al canale per rimanere aggiornati di settimana in settimana ricordatevi anche di premere sull'apposita campanella. Noi come sempre ci rivediamo al prossimo video.